Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici, settimana numero 5 del 2021 e come vedete numeri performance incredibili questa settimana, andiamo dal più 7% di Milano al modesto tra virgolette più 3,88% del Dow Jones e i saldi per l'anno come vedete sono tutti completamente in verde, la settimana scorsa eravamo con saldi decisamente negativi, solo il Nasdaq era rimasto in frazionale rialzo, questa settimana stiamo con tutti altri numeri. Che cosa è successo per ribaltare così decisamente la situazione? A leggere i titoli del giornale di questa settimana spicca senza dubbio l'incarico a Draghi per dare un governo all'Italia, ma avevamo già visto settimana scorsa che nonostante la crisi di governo, queste sono le performance della settimana scorsa, Milano era l'unica a non essere andata oltre un meno 3%, per cui praticamente è stata la migliore o se vogliamo la performance meno peggiore della settimana, nonostante la caduta del governo, pertanto è comprensibile per l'Italia il più 7% in vista dell'incarico a Draghi, ma non giustifica questo ottimismo su tutti gli altri listini mondiali. Che cos'altro è successo nel mondo? Abbiamo letto che vi sono stati i disordini in Russia per il caso Navalny, con relative sanzioni dell'Unione Europea alla Russia e altrettante relative espulsioni da parte di Mosca di alcuni diplomatici europei, ma in fin dei conti sono le solite scaramucce da gioco delle parti, nulla di gran particolarmente grave, tanto è vero che la cancelliera tedesca Merkel ha continuato a cercare di smussare gli spigoli tra le parti, confermando l'intenzione della Germania di acquistare le dosi del vaccino russo che ha dato delle buone percentuali di efficacia, non appena Alema darà il suo benestare. Quindi la Merkel ha cominciato subito a cercare di tenersi buono Putin. Putin che invece viene attaccato dagli Stati Uniti, l'amministrazione Biden comincia a lavorare a pieno regime e Biden comincia a lanciare strali contro Russia e Cina dicendo che non ci saranno più tutte le facilitazioni che aveva concesso Trump e alla Cina dicendo che lui non è Trump, ma che chiaramente non intende farsi mettere i piedi in testa dalle politiche cinesi. Tra parentesi Biden ha mandato le navi americane verso l'isola di Formosa dopo che su questa erano stati avvistati dei velivoli militari cinesi, quindi rimane bella alta la tensione tra USA e la Cina. Se a questo punto non sono state notizie di politica a portare questo rialzo sui lustini, viene facile da pensare che venissiano state allora di positive sul fronte medico, ma tutto sommato quello che è successo questa settimana non è che ci fa festeggiare. È vero che sono riprese le spedizioni dei vaccini di Moderna e di Pfizer, è vero anche che stanno arrivando le prime dosi in Europa del vaccino di AstraZeneca, è vero che vi sono dei nuovi vaccini che sono in attesa di essere autorizzati, stiamo pensando a quello di Johnson & Johnson, allo stesso vaccino russo di cui abbiamo parlato poco fa. Di questi minuti la notizia che in Italia è stata autorizzata la distribuzione in via straordinaria degli anticorpi monoclonali, ma se andiamo a guardare i numeri dei contagi, i numeri dei decessi, non è che ci sia tanto da cantare vittoria. Come rispondiamo alla domanda che ci siamo fatti, ossia cosa ha giustificato questo rialzo? Come vedremo dai grafici, un piccolo indizio ce lo daranno i volumi, che tranne a Milano, dove sono giustificati per certi versi, i volumi sono stati decisamente inferiori a quelli della scorsa settimana. Ribadiamo il concetto espresso in un editoriale di qualche settimana fa, non lasciamoci prendere dall'euforia per una settimana positiva e allo stesso modo non facciamoci prendere dalla depressione per una ottava negativa. Abbiamo avuto una settimana positiva, rimaniamo calmi, vediamo come procedere senza stare a pensare già ad aver risolto tutti i problemi. Andiamo a vedere allora la situazione dei grafici, partiamo dal grafico di Piazza Affari come sempre. Piazza Affari come vedete vi è stato anche il motivo dell'incarico chiaramente a Draghi, personalità di spicco, molto stimata all'estero, quindi una sorta di garanzia sul nome dell'Italia se vogliamo. Poi dovremo vedere se il Presidente incaricato riuscirà a creare attorno a sé una coalizione solida e a quali condizioni, perché poi non dimentichiamoci che il Parlamento con cui dovrà confrontarsi è lo stesso Parlamento che la settimana precedente ha creato una caduta di governo in una situazione, in un contesto veramente molto difficile, siamo in un contesto di pandemia e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Di certo abbiamo un'evidenza del fatto che lo spread è tornato sotto 100 ed è su livelli minimi che non si vedevano da anni e questo è di per sé già un ottimo segnale per l'economia italiana, con uno spread basso chiaramente avremo meno interessi da pagare e tutto ciò sarà a beneficio di tutti noi. Avamo visto settimana scorsa che nonostante la crisi di governo e la brutta candela rossa i volumi erano rimasti sostanzialmente in media, questa settimana stiamo vedendo una performance da più 7%, abbiamo volumi sopra la media, ma se vogliamo essere un attimino pignoli e attenti dobbiamo anche dire che con una performance del genere forse ci attendavamo dei volumi superiori, quindi aspettiamo a cantare vittoria e andiamo a fare un passo alla volta. Sicuramente è molto importante il fatto che abbiamo passato tutte queste resistenze, siamo arrivati al test della resistenza dei 23.100 punti, test che non si è confermato in chiusura, abbiamo chiuso appena sotto i 23.100, comunque candela molto interessante, adesso abbiamo un primo supporto in area 22.880 circa e una prima resistenza sui 23.100. Vedremo se già da lunedì magari il governo Draghi entrerà in essere e quindi ci sarà una nuova ventata di ottimismo, pertanto passeremo e di slancio pure i 23.100 per andare in settimana ad avvicinarci a quota 24.000 punti o se invece ci vorrà un pochino più di tempo al Presidente incaricato e qui magari tornerà sotto pressione il livello dei 28.8, possibilmente anche rischiando di andarci sotto, ma sarebbe già importante tenere il livello dei 23, possibilmente chiudere la settimana prossima sopra i 23.100 per andare a creare una nuova base che possa richiamare questo movimento già visto a fine dell'anno scorso per poi andare a ripuntare con decisione i 24 e andare a chiudere questo gap, il gap della pandemia a 24.670 che significherebbe essere tornati nuovamente a superare i massimi di ottobre 2009, quei massimi che praticamente da oltre 10 anni ci stanno tenendo sui minimi per quello che riguarda il complesso del FUZI-MIB. Andiamo a vedere il grafico del DAX, il DAX che praticamente dopo la settimana scorsa che era sceso a chiudere sotto la rialzista, la recupera prontamente, supera i massimi della settimana scorsa, torna a sfiorare il massimo storico, rimane sotto per una ventina di punti circa, per cui il DAX adesso è ben impostato per proseguire nel suo rialzo, andare a segnare nuovi massimi storici, vediamo che il supporto dinamico passerà in area 13.640 punti circa, quindi attualmente è sopra i 14.000 punti, se non ci fossero particolari situazioni negative, l'impostazione è tale che si possa proseguire al rialzo ed andare a vedere nuovi massimi storici sul listino tedesco. E' stata una buonissima settimana anche per Wall Street, praticamente se escludiamo il Dow Jones, il Nasdaq e il SP500 hanno registrato nuovi massimi storici, proseguono le trimestrali in America, alcune società sono andate bene, altre ovviamente sono andate meno bene, ma torniamo a quanto detto settimana scorsa, le società del digitale, le società dell'online sono andate bene, causa pandemia, le società dell'economia tradizionale chiaramente stanno soffrendo di più. Andiamo a vedere nel dettaglio i grafici, eccoci qui, questo è il Dow Jones, ha recuperato praticamente completamente la negatività della settimana scorsa, eccoci però con i volumi che sono decisamente sotto la media, quindi un bellissimo rialzo, un bellissimo recupero, però è stata fatta una discesa con volumi oltre la media, un recupero con volumi più bassi, per cui attenzione. Segnaliamo anche come dall'inizio dell'anno pare che ci sia una sorta di resistenza statica intorno ai 31.260-70 punti, pertanto vedremo se sull'onda, sulla spinta di questa settimana si riuscirà a rompere il rialzo e quindi ad avvicinarci verso la reale resistenza che passerà a 31.840 prossima settimana o se invece magari si scenderà a testare questo livello supportivo in area 29.750. Velocemente andiamo a vedere il Nasdaq che invece pare non avere grossi problemi e infatti anche qui i volumi sempre sotto la media, ma decisamente quasi in media, registra una buona candela, apertura a chiusura sopra i massimi della scorsa ottava, 13.603 punti, prosegue tranquillo nella sua rotta, punta ai 14.000 punti, primo livello di supporto restano i due minimi allineati in area 12.850 punti circa, Nasdaq prosegue tranquillamente la sua strada, proseguiranno le trimestrali settimana prossima e pertanto è più probabile che punterà i 14.000 punti. Chiudiamo infine con l'analisi del grafico dell'SP500, che si conferma essere un listino perfettamente e prettamente tecnico, apertura sulla rialzista e finalmente dopo 1, 2, 4 tentativi eccolo che rompe e chiude sopra la rialzista la resistenza dinamica e si porta a registrare un nuovo massimo storico, chiusura a 3.886 punti dopo aver toccato i 3.894 di massimo. L'idea è che possa puntare verso i 4.000 punti da raggiungere nel giro di una o due settimane. Il primo supporto adesso però è molto vicino, stiamo parlando dei 3.867 punti, in quanto la seguente rialzista è a 3.746 e a meno di nuovi affondi pesanti, la vediamo abbastanza difficile. Pertanto SP500, il listino di riferimento mondiale sotto gli occhi di tutti, con questo breakout della resistenza dovrebbe dare un segnale di forza a tutto il mondo finanziario. Vi vogliamo segnalare che il nostro nuovo servizio bond aperto appena una settimana fa è già andato a target, questa settimana sono stati effettuati con successo i 3 segnali e l'1% di guadagno lordo che avevamo dato stabilito come target è stato ampiamente superato, il risultato è stato di più 1,24%, quindi raggiunto e superato e il tutto nella sola prima settimana dal suo lancio. Un ottimo risultato, un nuovo ottimo risultato per MacTrader. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica.